Ma sì, sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Expo come veicolo commerciale per le imprese piemontesi e questo è il senso degli incontri bilaterali realizzati al padiglione commerciale cinese. Veniamo qui a presentarci non come singole città ma come Piemonte e all'interno di questo Piemonte una piccolissima parte di quello che è l'offerta nel settore food, veramente molto importante per il Piemonte, non ancora completamente valorizzato. Abbiamo trovato una condivisione da parte della regione, della Camera di Commercio di Torino, del Centro Estero per l'internazionalizzazione e del Commercio regionale che hanno aderito a una proposta fatta da Turismo Piemonte di essere presenti per un mese all'interno del padiglione business della Cina per così avere l'opportunità di incontrare delegazioni, aziende, istituzioni e porre le basi per delle collaborazioni che naturalmente dovranno svilupparsi nei prossimi anni. Devo dire che Espo è proprio una grande occasione, la rappresentanza internazionale e questa vicinanza con la Cina è legata anche a queste strutture che tra l'altro vengono utilizzate e condivise e che davvero segnano delle opportunità, consentono dei rapporti ravvicinati e consentono anche a questo mondo, la Cina, di avvicinarsi all'Italia in una maniera molto singolare. La volontà per cui abbiamo voluto venire qui nel padiglione business della Cina è stata quella di poter portare le piccole e medie imprese del settore che noi rappresentiamo che mi sembra siano state un po' abbandonate nella rappresentazione del food nel nostro territorio per cui siamo qui con le nostre categorie, naturalmente le categorie del food, quindi i ristoratori, i pasticceri, i gelatieri, i caffè bar tutto quello che rappresenta la quotidianità del vivere italiano. Il mercato cinese è un mercato importantissimo, da più parti oramai viene constatato un incremento di presenze turistiche cinesi in tutta Italia ma anche nel nostro Piemonte negli ultimi due o tre anni i flussi turistici sono stati molto importanti. Non dimentichiamo che poi siamo comunque terra di grandi marchi che si vedono anche qui in Expo e che sono naturalmente per noi un grande privilegio, cioè siamo lusingati del fatto che ci sono grandi aziende anche di carattere commerciale piemontesi, torinesi. Il rapporto tra istituzioni e le associazioni come oggi Ascom diventano fondamentali così con commercio proprio per proseguire in questa direzione, quindi per continuare a mantenere vive le relazioni a cui poi seguono i contratti se si riesce appunto a mantenere il massimo della correttezza, il massimo della coesione e a credere nel lavoro di squadra. Il settore, come sempre, a fare da traino è quello del Pusino, sparafondini e barbariche orazioni. Credo che sia un settore che non abbiamo ancora sufficientemente valorizzato come altre regioni italiane ma noi abbiamo intanto l'eccellenza di moltissimi prodotti e poi siamo produttori e trasformatori di importantissimi prodotti che appartengono soltanto al Piemonte o che comunque il Piemonte partecipa in modo attivo sia nella produzione sia nella trasformazione. Il nostro territorio da questo punto di vista ha molto da spendere, anche dal punto di vista potenziale, un potenziale che sicuramente può crescere, ovviamente bisogna continuare a sviluppare relazioni perché le relazioni diventano un po' un lavoro di semina e chi semina raccoglie.